Diretta televisiva per la notte di Natale dal Santuario di Graglia. La serata inizierà alle 22.45 con suggestivi brani musicali che accompagneranno dalle 23 la messa che sarà celebrata dal Rettore Don Eugenio Zampa. Parteciperanno uno dei più grandi organisti italiani, il maestro Gianluca Cagnani, titolare dell'organo e docente al Conservatorio di Torino, l'artista internazionale giapponese Aki Osada, soprano, e il flauto moderno valdostano Luisa Besenval. Al termine della messa, gli alpini, la proloco, l'amministrazione del santuario offriranno il panettone e un sostanzioso vin brulee per riscaldare la serata. Ed allora sentiamo il messaggio augurale dell'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin. Ricordiamo che il santuario di Loreto è aggregato al santuario di Graglia. A Don Eugenio, a tutti gli amici di Graglia, a tutti i devoti della Santa Casa, giunga il mio cordiale e affettuoso augurio di buon Natale, che sia un Natale segno di speranza, di fiducia. Gesù è nato in una stalla, povero, senza nulla, però circondato dall'affetto di due genitori, Maria e Giuseppe. Il Natale getta un raggio di luce sulla missione e la vocazione di ogni famiglia. Ogni famiglia può accogliere il Signore. Lo accoglie nel marito, nella moglie, nei figli, nei nonni, nei vicini, nelle persone che bussano alla porta della propria casa. Auguro davvero ad ogni famiglia di accogliere il Signore, che vuole vivere con noi per portarci la sua pace, la sua gioia. E sono certo che ogni famiglia, ogni persona, ciascuno di noi che accoglie il Signore troverà motivi di speranza e di bontà per ridare slancio e fiducia alla propria vita e ad andare incontro al nuovo anno con questa speranza. Il Signore è con noi, non ci abbandona mai. Questo è il senso del Natale. Tanti cari auguri a tutti.